buongiorno buongiorno a tutti e bentornati su gaming galaxy il vostro portale di intrattenimento per news build e guide e soprattutto live dei vostri giochi preferiti ricordatevi che un clic sul vostro schermo sul tasto iscriviti per voi è gratuito per me è un incentivo sempre a fare meglio quindi iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video e le live che escono sul canale oggi parliamo di godfall e parliamo un po più in generale del sistema di combattimento quindi come sarà e che difficoltà avrà questo nuovo sistema portato dalla gearbox ricordo che godfall è un titolo in doppia e non in tripla in uscita il 12 novembre per tutti i possessori di pc e il 19 novembre per tutti i possessori di ps5 grazie a tutti i trailer che sono stati rivelati ovviamente da gearbox e in realtà anche da altri streamer molto famosi che hanno chiaramente rivelato sia i valor plate che potremo utilizzare sia le antreprime pratiche quindi il sistema di combattimento in realtà ancora non si sa benissimo quanto questo sistema di combattimento sia e che difficoltà sia quindi non abbiamo dei veri e propri feedback tramite ovviamente il gioco su pc e ps5 che ovviamente ancora deve uscire attualmente il combattimento ha avuto un'enfasi nei trailer come un combattimento serrato e veloce e ha portato ovviamente a molti a credere che il gioco sarà molto simile a dark soul con difficoltà punitive e un'enfasi su schivate parate e ovviamente contro attacchi perfetti un nuovo sguardo però su godfall mostra uno di questi scontri con i boss in stile souls ma un dettaglio del combattimento potrebbe suggerire che counterplay sta andando più per un'esperienza accessibile al pubblico e non un combattimento così punitivo come era in dark souls quindi c'è sempre una brutalità mantenuta nel combattimento stesso che possiamo ritrovare in dark souls in questo caso che si fa a paragone ma l'accessibilità diciamo derivante dal modo in cui il gioco tiene traccia della progressione del personaggio e soprattutto nella progressione durante i tentativi di combattere questi boss potrebbe far sì che il combattimento reale non sia così difficile e complicato come ci si aspetterebbe ma sia un po' più cacciarone e un po' più alla portata di tutti quanti sia i pro player che i player molto più casual un dettaglio che ovviamente ha fatto sì di propendere per un combat system molto più alla portata di tutti è stato rivelato nel video di it media news dove è chiaro che le meccaniche di godfall di combattimento si prestano a combattimenti contro boss difficili quindi sono studiate proprio per arrivare al boss velocemente dove alcune schivate malprogrammate attacchi avidi possono facilmente portare alla morte tuttavia però morire non sembra necessariamente significare ricominciare dall'inizio in godfall quindi come in questo caso monster hunter world grazie alle varie varie di vita del in questo caso di godfall del boss e in cui si nota che la barra della vita e la barra dello scudo non vengono ripristinati ad ogni morte sembrerebbe che una volta morti si possa rincominciare dallo stesso punto cosa che invece in dark soul per esempio non accade ma accade per esempio in monster hunter quindi counter play secondo me ed è un parere in realtà anche un po generale di chi sta seguendo questo titolo potrebbe avere sì una difficoltà elevata per quanto riguarda il combattimento contro i boss ma è vero anche che questa difficoltà viene rotta o comunque viene diluita per il semplice fatto che una volta che noi moriamo per una parata sbagliata o comunque per in generale perché non siamo bravi in quel preciso momento non conosciamo il boss non ci debba far rincominciare tutto il livello tutto il boss da zero ma si potrà rincominciare da un determinato punto plausibilmente questa cosa non si sa ancora ma visto che è così punto molto di più sulla versione di monster hunter quindi sicuramente una volta che noi moriamo avremo tot morti prima di dover ricominciare il boss da zero o magari il livello intero quindi da un lato non è punitivo dall'altro potrebbe diventarlo quindi diciamo che è un buon modo per far sì che sia i casual gamer che i pro gamer si possano divertire questo però cosa concerne concerne che per tutto il resto del combattimento quindi per tutti i livelli combattivi quindi contro i nemici che dovrebbero arrivare a gruppi durante il combattimento per arrivare al boss siano invece molto molto facili che è una cosa che secondo me stona parecchio e mi spiace un sacco però a quanto pare i video mostrati fino ad ora del combat system sono reali quindi l'IA non è per nulla sviluppata bene o meglio non è per nulla sviluppata in maniera hard e spero sinceramente che come è per molti titoli ci siano la possibilità di switchare difficoltà quindi di avere una difficoltà maggiore per avere comunque un una sensazione più appagante del gioco stesso perché se così fosse anzi se così non fosse e veramente i combattimenti contro i nemici minori e non il boss siano così facili come visti nei video il gioco secondo me ne risentirebbe parecchio quindi arrivando alla conclusione questo gioco che comunque strizza l'occhio ai souls like sembrerebbe avere due direzioni differenti quindi un combat system differente per tutti i nemici minori e un combat system che si evolve contro i boss e quindi diventa molto più complicato contro i boss noi comunque dobbiamo aspettare per vedere ovviamente fino al 12 novembre finché io non metterò le mani su questo titolo che ho già comprato quindi il 12 novembre anche per tutti i possessori di ps5 mi vedrete live su questo canale e comunque porterà tutti i video del caso e vedremo se questo titolo ne varrà la pena oppure avrò buttato seriamente i miei soldi e ci dedicheremo direttamente a cyberpunk 2077 che esce tra le altre una settimana dopo bene con questo è tutto ricordo che ancora una volta su pc uscirà il 12 novembre su ps5 il 19 aspettiamo aspettiamo e vediamo fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate di questo sistema di combattimento che è stato un pochino rivelato finalmente almeno per quanto riguarda i boss e niente ci rivediamo con il prossimo video e le prossime news fino all'uscita del titolo ciao a tutti